Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina! Durante la preparazione dello smartphone che sto provando in questo momento ho scoperto una cosa interessante per quanto riguarda lo speed, il post ID, mondo post in generale. Voglio condividere con te questa informazione perché penso che in molti si siano trovati con questo problema e non abbiano capito bene che cosa succede. Allora in pratica quando io con il mio smartphone sono andato a configurare il post ID quindi questo è il mio smartphone, sono andato a cercare l'applicazione post ID quindi non post e pay che è l'applicazione che ci serve per far funzionare lo speed quindi ho installato le mie cose su un telefono diverso dal solito voglio che funzioni anche lo speed quindi apro il post ID, questa applicazione qua e devo compiere delle impostazioni quindi la devo aprire, adesso il mio telefono me la mostra ma per sicurezza, per una questione di privacy non viene mostrata qui comunque io ho dovuto compiere delle operazioni inserisci il PIN, impronta digitale, file, tutte queste cose qui insomma che abbiamo già visto in altri video già non semplici di per sé, per una questione di sicurezza e alla fine mi ha bloccato mi è uscito un messaggio strano che è questo, l'ho fotografato così te lo posso mostrare eccolo qua mi è uscita questa voce limite dispositivi associabili hai raggiunto il numero massimo di dispositivi associabili alla tua utenza ma cosa dici? ho un numero di telefono solo sto facendo lo speed con quel numero di telefono lì non sto facendo niente di particolare e invece scopriremo che aveva ragione puoi effettuare il reset di alcuni di essi dall'area riservata di post italiane seguendo questi passaggi allora in pratica che cosa succede? quindi me ne sono accorto dopo aver fatto tutto che quando tu abbini il tuo telefono per fare lo speed a poste se utilizzi il servizio poste loro sul tuo numero di telefono associano da qualche parte all'interno dei loro sistemi il telefono che stai usando quindi loro danno un nome al tuo telefono e associano quel telefono lì a prescindere dal numero telefonico che anche quello conta ma a parte il numero di telefono associano quel telefono lì che tu stai usando come il telefono che può accedere allo speed quindi dovrai per forza usare quel telefono lì e quindi tu non ti accorgi di questa cosa e succede che se cambi telefono oggi cambia telefono domani eccetera dopo un po' di anni perché io ho trovato dentro telefoni di 5, 6, 7 anni fa ti dice limite dispositivi associabili e tu ti chiedi ma cosa ne ho uno di telefono cosa facciamo perché lui ha memorizzato tutti i telefoni che tu hai cambiato negli anni quindi adesso per poter associare l'ultimo, il nuovo telefono devi andare a pulire questo registro e cancellare e fargli dimenticare i telefoni che hai usato nel passato ma anni fa proprio quindi adesso vediamo come si fa diciamo che basta seguire le istruzioni alla fine accedi su www.poste.it ok quindi io l'ho fatto dal telefonino ero seduto sul divano mi sono messo lì col telefonino ma visto che abbiamo comodità facciamola da computer questa cosa può essere fatta sia dal telefono se sei in giro ma anche dal computer di casa con uno schermo bello grande quindi www.poste.it perfetto raggiungo il sito mi devo loggare presumibilmente dovrò farmi riconoscere andiamo a vedere che cosa dicono le istruzioni intanto che il mio computer apre il sito e dice clicca su accedi al profilo clicca su dispositivi e sicurezza quindi clicca su accedi al profilo perfetto accetto i cookie siamo in poste accedo al profilo qui non c'è proprio la voce accedi al profilo ma è area personale c'è l'omino quindi questo è il mio profilo la mia iscrizione area personale ok qui adesso mi dice per accedere a my poste devi essere un utente registrato se sei un cliente business clicca qui oppure accedi più velocemente con banco posta o poste pay sul momento non potevo farlo perché il mio telefono doveva essere configurato e quindi non accedeva neanche alla poste pay quindi ho dovuto inserire i dati manualmente per cui adesso vado a farlo ok dico accedi e sono entrato benissimo cosa devo fare adesso allora andiamo a vedere devo andare su dispositivi e sicurezza clicca su disattiva dispositivo benissimo vediamo se troviamo qualcosa in tal senso guardiamoci attorno l'ho fatto l'altro giorno però sono già qui che devo cercare dov'è non vedo questo dispositivi e sicurezza provo a premere su Daniele profilo vediamo un po' dispositivi e sicurezza quindi torniamo indietro torna mai poste quindi dopo essermi loggato quindi dopo aver inserito i miei dati sono arrivato qui in benvenuto Daniele Castelletti eccetera eccetera per trovare dispositivi e sicurezza devo andare su Daniele Castelletti e poi su profilo probabilmente era quello che mi dicevano qui vediamo un po' accedi al profilo ok quindi questo accedi al profilo che per me era semplicemente un accedi in realtà invece significa accedi poi vai sul tuo nome accedi al profilo arrivo al profilo e adesso trovo dispositivi e sicurezza eccolo qua dispositivi e sicurezza premo sulla freccina gialla qui c'è scritto da completare vabbè andremo a vedere e qui dentro adesso trovo il telefono attualmente qui dentro c'è solo il mio ultimo telefono quello che sto utilizzando per provarne le funzionalità in questo momento prima c'era una lista di 7-8 dispositivi di anni e anni fa telefoni che non ricordavo neanche più di avere avuto ma che quando ho visto qui in lista ho detto ah caspita quel telefono lì è stato forte ma sono passati 5-6 anni da quando ho smesso di usarlo qui ci sono tutte le date questo è stato attivato nella realtà il 23 ottobre 2023 se lo voglio togliere premo su disattiva dispositivo e basta e quindi a posto così non lo faccio perché questo telefono adesso mi serve quindi tutte le volte che tu hai usato il post ID e hai attivato lo speed su un telefono da qualche parte qui è rimasto memorizzato il telefono che stavi usando e attenzione lo stesso telefono se viene pulito e poi re diciamo associato a post ID viene di nuovo elencato qui si chiamerà sempre SMini con una voce o con un codice diverso ma risulterà due volte come se fossero due telefoni associati questa evidentemente è una funzionalità di sicurezza e non dobbiamo assolutamente dirci ma caspita ma guarda che complicazione eccetera eccetera serve per la nostra sicurezza ci hanno dato le istruzioni quando è stato il momento si tratta di leggerle con un po' di elasticità e riuscire a muoversi per arrivare a destinazione ce l'abbiamo fatta e mi auguro che il video ti sia piaciuto qui sotto trovi il pollice in su per dire mi piace trovi il pulsante iscriviti per iscriverti al canale e trovi il pulsante abbonati per essere uno dei nostri abbonati e usufruire dei vantaggi dedicati agli abbonati sul canale youtube associazione culturale maggiolina ci vediamo presto ciao ciao